Attivazione del servizio di videosorveglianza in punti sensibili della città, potenziamento delle attività interforze e coinvolgimento degli esercenti nell'azione di controllo della Movida. Sono le principali indicazioni emerse nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto in Prefettura, su richiesta del Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, dopo alcuni episodi di vandalismo e risse in città. All'incontro presieduto dal Prefetto Giuseppe Linardi erano presenti i dirigenti di tutte le forze dell'Ordine e l'assessore con delega della ricostruzione urbana del Comune dell'Aquila Fabrizio Taranta. Non esiste nessuna emergenza sociale in città. Non c'è realmente un'emergenza all'Aquila per quello che riguarda la sicurezza dettata così dalla Movida che molto fa discutere ma fa discutere in tutte le città d'Italia. L'Aquila è una città che sta tornando pian piano alla normalità e quindi probabilmente ci eravamo un po' disabituati ad avere così molta gente che frequenta il centro storico. Probabilmente ci dovremmo abituare nuovamente. I dati che sono stati riportati sia dalla Questura che da tutti gli organi di Polizia sono comportanti. Ci dicono, come ripeto, quello che ci aspettavamo, visti anche i dati della nostra Polizia Municipale, che, come ripeto, ci indica che ci sono dei singoli episodi isolati per i quali ovviamente i responsabili sono stati già identificati e denunciati. Anche qui si è parlato molto di rissa ma poi non è effettivamente così. In un era social come la nostra tutto viene sempre molto amplificato. Si tratta di episodi di litigiosità tra singoli soggetti che, ripeto, sono stati tutti identificati e già denunciati. Quindi la presenza delle forze di polizia, di gruppi intersettoriali già costituiti e all'opera. Ovviamente cercheremo di implementare queste funzioni ma, ripeto, non c'è un'emergenza reale. Per l'assessore adesso dovrà essere la cittadinanza tutta a impegnarsi per avere una città più ordinata, decolosa nel rispetto delle esigenze di tutte le sue fasce sociali. I commercianti dovranno garantire ad esempio il rispetto degli orari di chiusura dei locali alle 2 e quelli dello stop alla musica ad alto volume a mezzanotte. Un appello anche a consorziarsi per acquistare sistemi privati di sorveglianza e di sicurezza. Ma l'appello più importante è quello ai cittadini. Una città più pulita e rispettosa è una città a misura di tutti.